Da casa di villeggiatura dei gesuiti di Sant'Agata a Istituto Tecnico Agrario, una ricerca scrupolosa fondata su documenti dell'Archivio di Stato, quella che Antonio Vitellaro ha portato avanti in questi mesi per ricostruire la storia della casina gesuitica delle Balate, la cui costruzione cominciò all'inizio del 1843 e di cui si avevano poche notizie e per lo più inesatte. Una casina di cui i gesuiti poterono godere solo per 27 anni, visto che i loro beni, dopo il decreto emesso il 17 giugno del 1860 da Giuseppe Garibaldi e la loro espulsione della Sicilia, furono incamerati dal demanio dello Stato. Un omaggio all'Istituto Senatore Angelo Di Rocco e al dirigente scolastico Bruno Lupica, quello che Antonio Vitellaro e la società nissenna di storia patria hanno voluto fare con la realizzazione di un opuscolo, dalla casina gesuitica delle Balate all'Istituto Agrario Di Rocco, presentato sabato pomeriggio nell'aulamagna dell'Istituto. È nata così la cosa, ha detto, presi, se stai andando in pensione, vorrei farti un omaggio, un pensiero. Potrei raccontarti la storia del convitto del vecchio istituto agrario. Ricercando i documenti, lui ha incoraggiato l'iniziativa, ho potuto ricostruire tutta la vicenda nei minimi particolari di questa costruzione, chiamata la casina dei gesuiti delle Balate, perché questa contrata si chiamava le Balate. Era la casa dei villeggiatori dei gesuiti e attorno aveva più di sette ettari di terreno. Ho scoperto, ho letto tra le carte, nell'archivio di Stato, che già nel 1874, quando il comune di Caltanissetta comprerò dal demanio questo fondo, la destinazione d'uso era che vi nascesse nel convitto la scuola agraria e il fondo fosse utilizzato come campo modello per l'esercitazione dei ragazzi. Una storia bellissima sicuramente, perché dare una paternità completa all'istituto agrario, un istituto di eccellenza nel territorio, che ha saputo diplomare tantissimi grandi periti agrari, che poi anche sono diventati agronomi, che hanno fatto la storia, dove hanno insegnato tanti illustri docenti, è un modo per dire anche alle future generazioni, guardate, avete un istituto che ha una storia, ha una storia che inizia subito dopo l'unità d'Italia e potete essere orgogliosi di viverla e viverla bene. Per l'occasione, la sezione nissena della Federazione Italiana Cuochi, il pasticcere Lillo De Fraia e gli insegnanti dell'istituto hanno organizzato un cocktail nel giardino della Casa Gesuitica per anni convitto degli studenti fuori sede per salutare così il dirigente scolastico Bruno Lupica in pensione dal prossimo 31 agosto dopo oltre 38 anni di attività nel mondo scolastico di cui 26 da preside negli ultimi 16 anni guida salda per alunni e insegnanti dell'istituto di Rocco.